Ciao e benvenuti a Pillole di Design. Questa che vedete è la sedia mezzadro dei fratelli Castiglioni. Negli anni 50, più precisamente nel 1957, i fratelli Castiglioni presentano il prototipo di un mezzadro alla mostra a Villa Olmo di Como. Esso rappresentava un evidente desiderio di libertà e novità all'interno degli spazi domestici, una ventata di aria fresca. D'altronde è uno sgabello formato dagli elementi presenti nella seduta di un trattore. Quando mai si era visto? Inoltre la cosa interessante è data dagli incastri tra la base in legno e la parte curva in metallo che è stata rivoluzionaria e ancora oggi viene utilizzata di quel tipo. Non ho provato a modificarla ma così come l'hanno creata i fratelli Castiglioni è perfetta. Tutto qui, alla prossima, ciao!